Salve a tutti, con questo piccolo video intendo spiegare il funzionamento di PDF Scense, la cartella 10 del kit PCDSA. Quindi quando si apre e si scarica il kit da internet si trova in questo punto. Come tutti i programmi sono corredati da video e una volta aperta la cartella il programma doppio clic e si installa. PDFs change l'ho scelto perché ha delle funzioni molto particolari che ci servono per il compito che abbiamo, cioè facilitare lo studio dei libri digitali. PDFs change non è un normale lettore PDF perché permette, come si vede già da questa immaginetta, durante la lettura digitale con una sintesi vocale che nel kit è Leggi per me, uno screen reader che ha una sintesi vocale, permette sottolineature, commenti testuali, permette addirittura di inserire dei collegamenti esterni e quindi permette di commentare il testo come farebbe normalmente un ragazzino durante la lettura di un testo digitale. Adesso cercherò di mostrare brevemente queste funzioni. Usando un testo digitale di storia, un libro digitale di storia che ho precaricato, questo qui sul Medioevo, vi farò vedere le funzioni principali che servono durante lo studio. Allora, perché siano esposte le funzioni di commento sul testo, io devo, dopo averlo installato, andare nella barra degli strumenti e spuntare commenta e annota e proprietà, che sono le proprietà dei commenti in particolare. Allora, questo titolo, religione e società nell'alto Medioevo, se ritengo che sia importante potrei sottolinearlo. Per fare questo, devo prima di tutto utilizzare la funzione Seleziona, che è questa. Mi permette di selezionare il testo, come si vede, e se avessi uno screen reader, di leggerla. Con questa funzione posso evidenziarlo e appena clicco si apre la funzione di proprietà della evidenziazione. In questo caso, giallo, è abbastanza importante ricordare che sottolineare non vuol dire dipingere un testo, ma vuol dire mettere in evidenza le parti, i concetti che poi andrò a mappare o a studiare. Per fare questo ho bisogno di più colori. Le domande che mi porrò nella mappa dovrò evidenziare con colori diversi. Quindi è molto importante che le sottolineature non siano solo di un colore, ma siano di vari colori, a seconda della necessità, a seconda del motivo per cui vado a sottolineare, a evidenziare. Ho detto sottolineare anticipando un discorso, per esempio, il ruolo della chiesa dell'Occitende lo volessi sottolineare più la funzione di sottolineatura. È ovvio che se sottolineo con il giallo non lo vedrò, quindi se converrebbe fare le evidenze e le sottolineature con colori che risaltano. Come posso vedere, io posso sottolineare anche usando vari colori. Ecco, è evidenziata la funzione di sottolineatura per cui... Ecco, quindi posso intervenire come voglio sul testo. Posso intervenire sul testo non solo, come sto facendo in questo caso, con sottolineature, ma posso intervenire anche in altro modo. Ovviamente posso anche eliminarle, però posso modificarle, posso, dopo averle revisionate, cambiare di colore perché mi sembra che rispondano a una domanda piuttosto che a un'altra. Posso anche introdurre delle, come in questo caso, delle note che mi aiutano a ricordare qualcosa. Le note vanno scritte, medio, evo, alto, ad esempio, e possono essere anche queste lettere con la sintesi vocale. Posso introdurre del testo, e questa è una cosa molto interessante. Il testo, questa funzione qui, io appena scrivo medio, evo, tra il 500 dopo Cristo e 1300 dopo Cristo, ecco, giusto per far capire. Questo testo è spostabile, è modificabile, nelle funzioni di testo posso scegliere la dimensione, il carattere, il colore, e metterlo dove mi sembra opportuno metterlo, anche in mezzo al testo. Ovviamente faccio della confusione, è meglio che usi degli spazi bianchi. Oltre alla funzione di testo, ho la funzione delle frecce, che posso modificare a mio piacere. Posso creare dei rettangoli per evidenziare parti di testo, come in questo caso, solo che ho usato il giallo e non vedo niente, la dimensione del rettangolo. Quindi posso intervenire sul testo, addirittura posso scrivere a mano libera se fossi a una lime, vedete, posso scrivere, sarebbe più facile se avessi non il mouse ma un altro strumento. Questo testo poi lo posso anche spostare, in questo caso lo cancello. Allora, PDF Change mi permette tantissime cose, con questa funzione ingrandisco e rimpicciolisco la visione. Quello che è interessante è che nelle fasi di salvataggio, io posso salvare questo lavoro, questo PDF, chiamandolo unità 2 commentata. Lasciando l'unità 1 pulita per quello che è, e l'unità 2 commentata, che ne so, oggi, andrò a salvarla, e la prossima volta che la aprirò, avrò possibilità di rivedere l'unità 2 commentata oggi. Ma spero che sia questa, e se non è quella commentata ieri, ecco, è quella commentata ieri, ma è lo stesso, anzi forse è meglio, perché si spiega che io posso poi rimodificare se avessi fatto degli errori, o volessi cambiare qualcosa. Ecco, quindi questa l'avevo fatta ieri, qua si dimostra che io riprendo il testo e lo modifico come mi pare piace, perché magari, dopo una spiegazione avvenuta in classe, dopo uno studio, dopo un video visto, ci sono degli elementi che voglio aggiungere. Quindi il PDF è change, lo prendo, lo rimaneggio, e il mio libro digitale ho la possibilità di commentarlo ed elaborarlo come fosse un libro di carta. Studiare non è leggere, studiare è elaborare quello che si va a leggere, o a sentire nel caso di una lettura con la sintesi vocale. Spero di essere stato chiaro per le guide di questo kit PCDSA 2015, Francesco Fusillo e PDFs Change. Ricordo un'ultima cosa, questa è l'ultima versione di PDFs Change Viewer nella versione Freeware, non è la versione Pro, professionale, ma comunque le cose che permette di fare sono molte e non le ho descritte tutte, solo quelle che ci interessano per il nostro compito di compensazione del disturbo specifico dell'apprendimento. Grazie per l'attenzione.